buongiorno oggi facciamo una ricetta veramente sfiziosa e veloce e nello stesso tempo economica facciamo le justel fatte nel microonde senza frittura e niente allora prendiamo justel e lo tagliamo così vediamo gli ustel lo spacchiamo così e così così e li facciamo tutti così se lo mettiamo dentro microonde e qua mettiamo a quando non mette 5 5 minuti vediamo appena diciamo le nostre yurtel ci saranno cotte che vediamo che cominciano ad aprirsi ci spegniamo ecco questa è una procedura per togliere la frittura e vengono veramente squisiti ragazzi provatemi cominciano a scoppiattare vuol dire che si stanno cuocendo eccoci qua sono passati quattro minuti non si justa e non sono pronti per essere diciamo pronti per fare la prova dell'assaggio un profumo eccezionale ragazzi provatele così e toglierete l'olio frittura e cose più gustose e più gustose vengono eccoci qua oggi justel al microonde quattro minuti sono pronte ho fatto quella rima com'è 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 adesso vediamo eh ci abbiamo abbinato un pomodorino bellissimo questo qua bello piccolino datterino com'è 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 buon brazzo a tutti ragazzi bello piccolino se volete evitare la frittura mettete nel microonde quattro minuti belle a calorie bella sostanziosa e vengono una specialità com'è com'è internazionale ragazzi guarda che roba una roba veramente aspettiamo bello bicchiere di vino a salute ci vediamo per la prossima video ricetta guarda che roba un piccolino guarda che roba un piccolo Grazie a tutti.